Nel centro diurno per persone disabili della Fondazione Turati di Pistoia è stato inaugurato il murales realizzato dagli utenti nell'ambito di un laboratorio artistico avviato nella struttura. L'opera raffigura un albero nel quale, tra i rami e le foglie, i partecipanti hanno rappresentato i soggetti più amati, espressivi, del loro mondo interiore e della loro quotidianità. Un lavoro di squadra, di condivisione, insieme tutti gli operatori del centro e insieme a me con i ragazzi sono stati guidati attraverso la nostra voce, attraverso i nostri gesti e si sono coinvolti i ragazzi in questa meravigliosa esperienza. Abbiamo preso spunto dai giardini dei tarocchi che dell'autrice si chiama Niki Sanfail e ci piacevano tanti colori, tante forme che ha lei e quindi è stato molto utile trasmettere questo ai ragazzi, l'allegria della vita. La cosa nuova, almeno per noi, è che tutti i ragazzi che frequentano il centro diurno naturati hanno partecipato, ognuno con le loro competenze, con la loro capacità, con la loro creatività, con la loro voglia. La gestazione di questo murale è stata lunga, è stata lunga con alcune piccole interruzioni, con delle aggiunte di colori, ogni ragazzo ha messo qualcosa di suo e questo per noi è stato importante, nel senso la partecipazione di tutti. Per noi non è stato importante che il murale venisse bello, ma che fosse partecipato da tutti.